quando non sapete cosa preparare per cena avete mai pensato a una scelta del genere le fave con le uova e la pancetta dolce in padella vado a mettere olio extravergine d'oliva uno scalogno un po di salvia e la pancetta dolce che lascio trifolare la salvia è opzionale potete benissimo anche mettere il rosmarino e subito dopo mettiamo giù le nostre fave aggiungiamo poi un po di sale se vi va sfumate con del vino bianco io aggiungo anche un po di aromi certe volte quelli per patate e altre volte invece quelle per arrosti e ora siamo pronti con le nostre uova sono quattro in tutto due a testa lascio questo compito al nostro Rick praticamente sono un salvacena perché possono benissimo sostituire carne o pesce quindi quando non si sa che cosa fare di entrambi carne o pesce possiamo scegliere benissimo le uova e l'alternativa appunto con le fave anziché con i piselli che siamo soliti mangiarli in questo modo ed eccolo qui caldo invitante e questo piatto le uova con le fave e la pancetta dolce se hai apprezzato questa ricetta non ti rimane di lasciarmi un like e se non sei ancora iscritto ti apro le porte del mio mondo vieni anche tu con i bijoux di Rick & Mary grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti